Che cosa pensate di questa bozza di decreto sul foglio di servizio elettronico? Le prime due pagine. Articolo 2, articolo 3. Registrazioni dei lettori NCC sull'applicazione informatica. Registratevi voi sulla vostra applicazione informatica. Il foglio di servizio elettronico è il braccialetto elettronico che questo governo non riesce a mettere ai pedofili e agli istupratori, ma quegli s***** degli NCC sì, andassero a s*****. E siccome questo non lo sai fare, caro Salvini, questa la prendi, ci fai carta igienica e ti ci pulisci il c***o. Noi non siamo qui per loro, noi siamo qui per le nostre famiglie, per le nostre imprese e per tutelare la nostra dignità. Avete rotto il c***o.